e ci siamo bentornati in diretta insieme a un amico Claudio Marucchi bentornato insieme a noi come stai? Ciao carissimo un piacere enorme sto molto bene dopo le vacanze che mi hanno permesso di ricaricarmi adesso l'estate continua a modo suo però pieno di novità di voglia, di attività e quindi bene, tutto molto bene un abbraccio anche ai felissimi veterani abbonati ormai è consuetudine darsi appuntamento qua su Facciamo Finta Che e a giorni alterni sul canale Gianluca Lamberti tutte le sere insieme dalle 21.30 in simultanea anche sulle pagine Facebook e su X o per i nostalgici Twitter quindi siamo molti streaming questa sera una bella tematica e poi con Claudio ci saranno anche delle sorprese stiamo preparando un po' di cose insieme ma io partirei subito Claudio da come mai hai scelto questo tema questa sera di che cosa ci parlerai? Bene, intanto oltre a ringraziarti saluto tutte le persone che ci seguono o che ci seguiranno dopo la diretta e come sai da moltissimi anni ormai possiamo quasi parlare apertamente di decenni continuo a indagare sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista pratico alcuni dei grandi temi del mondo dello spirito della spiritualità e alcuni di voi sanno che sono partito dalla cultura orientale di studi di orientalistica e dallo yoga in particolar modo quindi sicuramente avvicinarsi al grande mondo della mistica orientale mi ha permesso di farmi un'idea un po' più precisa di alcuni aspetti tecnici diciamo che poi transitano non voglio dare per forza una priorità cronologica all'Oriente ma spesso devo dire che è così transitano anche in altri retroterra culturali e troviamo quindi delle costanti degli elementi in comune tra pratiche spirituali adesso teniamo questa nozione la più ampia possibile potremmo anche dire pratiche rituali se volessimo essere un po' più specifici in ogni caso si tratta di alcune costanti che abbiamo deciso di trattare all'interno di questa serata come si vede si evince dal titolo e che sono anche oggetto di un corso un seminario che sto tenendo proprio in queste settimane qui a Torino e che comunque si può seguire si può recuperare quindi poi chi volesse dopo può prendere informazioni a questo proposito giusto su questo tema dei sigilli dei mantra e delle mudra bellissimo fra l'altro come dice Gabriella in chat si prospetta una serata interessante così salutiamo anche Gabriella e salutiamo tutti i fedelissimi ondata di home spontanei in questa chat in tutti i canali di tutti i luoghi in tutti i laghi i buon mesbet in regia fedelissimi abbonati donatori in chat pronti perché quattro minuti accademici sono passati sono arrivati le notifiche fatecelo sapere grazie ai nomi iscritti verde partiamo di qui a te Claudio benissimo e quindi partirei da una considerazione allacciandomi agli home di gruppo che sono diventati un po' un'icona anche del canale nel senso che è una delle rappresentazioni come emoticon come simbolo del saluto della conferma della bontà del lavoro del congedo partirei quindi dai mantra cioè partirei dalla voce e in particolar modo dal suono prima ancora che dalla voce vi sono alcune considerazioni nella filosofia antica tanto in oriente quanto in occidente sul ruolo del suono e ha catturato l'attenzione dell'uomo antico che ha iniziato a concepire i primi strumenti musicali forse giocando a sfregare o a percuotere due o più oggetti e da questo a notare come si originasse il suono e forse non tutti sanno che home non ha un significato specifico cioè non è una parola che si possa tradurre voglio però ragguagliarvi un po' mitologicamente sulla nascita di questo di questo suono di questo mantra che veniva usato e tuttora viene usato naturalmente in ambito rituale in ambito mistico in tutto l'Oriente e poi in tutti i praticanti occidentali di qualunque disciplina orientale soprattutto ovviamente parliamo del mondo Hindu in particolar modo e questo suono è probabilmente la resa fonetica di un suono che l'uomo antico ha sentito e ha associato attraverso un mito a qualche elemento basilare della vita si narra infatti in uno splendido mito indiano antico che le mucche celesti cioè le mucche che vagano nel cielo vennero un giorno sequestrate da questo dragone serpente il cui nome era Vertra nome complicato che però dà origine al termine latino vortex cioè il vortice quindi era spirali forme serpentone cattura le mucche celesti e le imprigiona in una grotta le mucche celesti non sono nient'altro che le nuvole che pascolano nel cielo lentamente e danno la pioggia che sarebbe il loro latte attraverso il quale si sviluppa la vita i pascoli fioriscono e le mucche terrene cioè quelle terrestri sulla terra possono cibarsi dei pascoli e dare il latte che è la base dell'economia dell'India di allora e anche ora e che cosa succede? che in questa bellissima trasposizione delle mucche che l'MLM si aggirano sui pascoli così come le nuvole lentamente si muovono nel cielo il sequestro da parte di un ciclone rappresenta un aspetto del clima monsonico che ha una stagione delle piogge una stagione della siccità quindi il modo mitologico di raccontarsi la siccità era che il serpente dragone ciclico spiraliforme sequestra le mucche quindi le nuvole spariscono dal cielo e poi il dio della tempesta si chiama Indra è sostanzialmente un equivalente indiano di Jupiter cioè di Zeus e di fatti armato di un fulmine anche lui va nel tentativo di liberare le mucche sequestrate va a combattere contro questo dragone serpente la vecchia storia della lotta un dragone prima molto prima di Mikael con la spada abbiamo Indra con il fulmine che combatte contro questo drago lo sconfigge proprio grazie al fulmine e in questo modo il corpo del drago che ostruiva la grotta cade diciamo così e le mucche celesti escono l'uscita delle mucche è accompagnata ovviamente dal muggito di gioia o di felicità di queste mucche liberate il muggito è probabilmente il suono all'origine avete tutti sentito dei bovini muggire all'origine dell'om anche per il modo in cui veniva vibrato l'om vibrato profondo e non cantato forse più vicino allo stile che conosciamo dai tibetani piuttosto che non un canto tema che verrà dopo anche la melodia si costruisce dopo prima nasce il ritmo allora questo om proprio come vibrazione primordiale riprende il grande suono cosmico che è il muggito di queste mucche celesti ma anche il soffio del vento nei cunicoli delle viscere della terra o il suono delle acque del mare spinte nelle grotte l'altro Claudio ci vuole una certa capacità vocale per fare quello che c'è bisogna esercitarsi parecchio quindi bravo un po' di allenamento ci vuole io ho avuto la fortuna di iniziare molto presto ecco è chiaro che questo mito è un bellissimo modo di iniziare un racconto perché si appella a quella narrazione eterna che è al di là dello spazio del tempo che è al di sopra della storia che potrebbe essere raccontata così come è stata raccontata 4-5 mila anni fa anche fra 4-5 mila anni non cambierebbe nulla della portata simbolica e degli effetti sull'inconscio di questo racconto il suono accompagna la creazione il suono sostiene la creazione il suono apre lo spazio e così effettivamente abbiamo riflessioni di questo genere anche in altri miti magari un po' più vicini a noi nel tempo sempre in india si racconta del dio brahma che è il nome del creatore sostanzialmente che ha una particolarità a quattro volti uno ciascun volto in una direzione cardinale quindi è come se avesse quattro facce una guarda est una guarda a nord una a sud e una a ovest quadridimensionale direi esatto esatto tre dimensioni e il tempo perfetto questo dio sboccia da un fiore di loto che si apre che a sua volta si trovava all'interno di un fantastico uovo dorato che si è aperto a metà uovo dorato che a sua volta era sbucato fuori dall'oceano di latte che precede la creazione e perché era sbucato fuori perché prima un enorme fallo chiamato Svaiambulinga cioè il fallo che si regge da solo che sta in piedi da solo e gli acculò nell'oceano di latte creando una sorta di fecondazione divina dalla quale sorse questo uovo dorato l'uovo si apre la metà superiore diventano i cieli la metà inferiore la terra al centro un loto si apre il fiore di loto sbuca il dio Brahma e la prima cosa che fa da ognuna delle sue quattro bocche recita a mo' di mantra quindi cantandoli vibrandoli i quattro veda cioè i quattro testi testi fondamentali e principali della cultura hindu sono testi di circa 3500 anni fa o più e rappresentano la base di quella che chiamiamo cultura o religione hindu li recita e in questo modo crea quello che possiamo chiamare il tappeto sonoro della creazione a partire da lì le cose possono accadere cioè possono essere innestate pensateci bene non è molto diverso dal concetto biblico che troviamo nell'antico testamento dove dove quel dio dal nome un po' problematico di Elohim questo plurale maschile di una di una radice singolare femminile eccetera si limita a nominare le cose per farle essere è emblematico il verso in cui che tutti conosciamo e spesso citiamo ed egli sottointeso dio disse luce e luce fu ora luce fu perché lo disse e il dire quindi l'affermazione in chiave sonora e fonetica di un fenomeno crea il fenomeno e questo fa parte di una filosofia che i greci recepiscono perfettamente con l'idea di logos cioè con l'idea di verbo con il quale per esempio si apre il vangelo di giovanni per passare a una cultura come quella neo testamentaria in principio era la parola o il verbo e il verbo era presso dio e il verbo era dio quindi questo logos è duplice per sua natura e sia identico con dio che presso cioè che si stacca si distingue si differenzia dal divino un po' come un figlio dal padre il figlio è frutto dell'incontro del seme e dell'ovulo dei genitori quindi è i genitori ma allo stesso tempo non è i genitori nel senso che si differenzia da loro si distingue da loro così accade con la nostra voce la nostra voce è noi pesca e traduce contenuti interiori emotivi mentali intellettuali ma esce da noi e finisce altrove diciamo così suono che ha sempre incuriosito gli uomini dell'antichità facciamo un altro esempio bellissimo pescato dalla Grecia a proposito di uno strumento musicale chiamato aulos l'aulos è una sorta di flauto è uno strumento di più di 5.000 anni fa aulos è un termine da cui deriva l'italiano aulico per esempio che ci fa capire la natura di questo suono è uno strumento usato nei riti dionisiaci spesso durante le feste orgiastiche e che i filosofi greci a un certo punto Platone per primo esigono che venga suonato solo fuori dalla città notate quanto è curiosa questa cosa la polis cioè la città il luogo dell'ordine della regola pretende che quello strumento musicale un po' diabolico il flauto venga suonato solo all'esterno nei luoghi periferici quindi c'è un'emarginazione di quel tipo di suono che non può essere codificato bene come quello della lira di Apollo per esempio perché con questi flauti si può svisare difatti sono lo strumento dei satiri dei fauni sono gli strumenti lo strumento di pan è un tipo di flauto la famosa siringa di pan e il timbro che ha in particolar modo è un timbro un po' impuro un po' pericoloso è bellissimo il mito della sfida tra Apollo e Marsia a proposito di questo strumento ingaggiano una gara musicale e c'è una giuria ovviamente che deve valutare chi vincerà una gara a punti inizia a suonare iniziano a suonare entrambi e all'inizio i giudici restano incredibilmente affascinati dal suono dell'aulos ovviamente si può svisare ha un suono che cattura di più più fluido e insomma assegnano il primo punto a Marsia cioè al satiro e Apollo però è furbo lui suona la lira e dice la lira avete presente tipo una chitarra non ce l'ho una lira ho una chiappa mosca che sembra una chitarra i cinesi vendono di tutto e allora ovviamente Apollo dice vabbè ma io posso guarda guarda io posso girare la lira e suonarla anche al contrario tu puoi fare la stessa cosa col flauto ovviamente col flauto non può fare la stessa cosa perché il flauto se lo giro non può suonare poi non contento quindi uno a uno non contento poi Apollo riesce a convincere la giuria che bisogna segnare un punto anche al fatto che lui suona la lira e intanto canta e dice tu sai fare altrettanto e ovviamente se suoni un flauto non puoi anche cantare quindi vince Apollo 2 a 1 e il destino che egli stesso decide di riservare a questo satiro perché questo faceva parte poi chi vinceva poteva scegliere che fine fare fare all'altro gli fa togliere la pelle lo fa spellare e questo tema del togliere la pelle legato all'aulost è molto interessante perché la pelle è il limite e il confine quindi in questo mito abbiamo anche un racconto della perdita del confine dato da alcune sonorità che ci fanno perdere un po' il confine pensate alla strategia dei mantra in ambito spirituale si può dire che i mantra siano serviti spesso a creare un piccolo disorientamento o un piccolo riorientamento della coscienza effettivamente è così usciamo dalla zona a cui siamo abituati quando abbiamo queste sonorità e i nostri limiti che di solito consentono una percezione netta evidente netta della realtà circostante finiscono per essere persi e si entra così in uno stato diciamo pure alterato o più profondo di coscienza e questa potrebbe essere una delle caratteristiche del mantra che è fluido e dinamico come è il suono con la sua velocità straordinaria abitato da una temporalità così incerta così inquieta che noi dobbiamo sempre inseguire e soprattutto la cosa più affascinante il suono è irrimediabilmente perduto quando smette di essere suonato cioè nel momento in cui la musica cessa non c'è un recupero e questo finché qualcuno non si è messo a scrivere la musica quindi a darci la possibilità di replicare la musica è interessantissimo ontologicamente diciamo che è il più effimero di tutti gli elementi il suono esiste solo nel momento in cui viene prodotto quindi la vera dimensione del suono è il tempo il suono è il tempo si certifica si misura attraverso il tempo ecco e questo tema dei mantra volevo dire una parola anche sul significato della parola ma ricordiamo che il termine in questo caso viene dal sanscrito tra è il suffisso che crea il caso strumentale nella lingua sanscret è un caso che i latini non avevano ma che significa possiamo tradurre come strumento per lo troviamo anche in tantra per esempio che vuol dire strumento per tantendere strumento per tendere per traslato telaio mantra è strumento per man latino mens l'atto mentale strumento per la mente strumento per immaginare strumento per l'atto mentale il mantra è in grado di modificare alcune percezioni ma soprattutto di lavorare sulle strutture del pensiero e in questo modo è in grado di creare un sistema di orientamento attraverso cui il pensiero possa scorrere praticando i mantra mi viene spesso in mente che il suono sia un po' come fare il solco sulla sabbia io che sono un po' vecchio ricordo che da bambino spesso sulle spiagge si giocava a biglie e si facevano dei solchi sulla sabbia in modo da far scorrere le biglie in questi solchi il suono nel mantra è come la creazione di un solco e la biglia è la coscienza che scorre attraverso il solco più i mantra sono organizzati come una sorta di mandala sonoro in una struttura coerente con dei riferimenti spirituali magari è proprio un mandala con le varie divinità che vengono chiamate una a una e più la coscienza si struttura è come se io creassi proprio quei solchi una grande coerente struttura armonica e la coscienza finisce per imprimere al mio stato d'animo quella coerenza e quell'armonia questo è il valore spirituale diciamo così quasi curativo direi dei mantra non so se ho reso l'idea di questi suoni che creano dei canali e la coscienza che può scorrere in questi canali perché quando noi parliamo a orientare diciamo la coscienza sono i significati delle cose che diciamo quindi io adesso sto dicendo delle parole più o meno dotate di senso fate voi e chi mi ascolta e così come io mentre le dico segue i significati per orientarsi ma se stessimo qui a dire ambarabacicicocco che un significato di per sé non ce l'ha ovviamente avremo un piccolo disorientamento che fine fa la nostra attenzione se non ha un significato a cui aggrapparsi diventa il suono cioè aderisce all'espressione fonetica la prova di questo è un giochino sempre perché sono vecchio che facevamo a volte da bambini che era quello di scegliere una parola della lingua italiana magari di solito trisillaba e ripeterla continuamente che ne so melone logica che ne so andiamo cioè parole dotate di senso ne scegli una la ripeti la ripeti la ripeti ripetendo ad un certo punto si scomponeva la parola rispetto al significato perché non sapevi più quale sillaba era quella che guidava se io ripeto melone 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 a un certo punto non sai più se stai dicendo l'onem eccetera eccetera quindi questa scomposizione della sonorità finisce per sganciare la coscienza dal significato la parola perdeva di significato e noi scoppiavamo a ridere perché eravamo bambini e faceva ridere dire una parola dotata di significato e trovarti dopo pochi minuti ad averla svuotata di significato cioè la parola sembrava assurda questa destrutturazione ha a che fare con alcuni mantra perché dovete sapere che non tutti i mantra hanno un significato non è non è vero che i mantra sono come la preghiera quindi sono tutte parole dotate di senso come se dicessi padre nostro che sei nei cieli che ha senso e so quello che sto dicendo alcuni dovrei dire molti mantra sono delle ripetizioni di fonemi sono delle catene sillabiche i cui significati sono solo esoterici sono ermetici si celano nelle molteplici tavole di corrispondenza esoteriche di quel contesto culturale ed è interessantissimo questo perché se io per chiamare la dea Tripura Sundari una grande divinità del mondo tantrico devo usare il suo mantra e questo mantra è ha sa ka la krim sa ka la krim ha sa ka la krim nessuna di queste è una parola dotata di significato eppure questo è il modo di chiamarla non so credo che sia interessantissimo perché quando la mente diventa il suono quindi non può fare appello ai significati perde una mediazione e se perde una mediazione diventa più immediata cioè non mediata quindi va direttamente a colpire la coscienza in profondità diciamo che non esiste attrito non esiste altra dimensione in cui far scorrere la mente che non sia quella della fluidità del tempo e del suono inteso come tempo per quello che vi dicevo prima spero sia abbastanza chiaro quindi i mantra si sono uno strumento per entrare a contatto con la quarta dimensione cioè con la dimensione temporale si viaggia letteralmente nel tempo una volta più di una volta in realtà ma una volta in particolare provai le 108 numero sacro per eccellenza in india ripetizioni del gaiat il mantra la gaiat è un mantra bellissimo le 108 ripetizioni ti impegnano a seconda del tipo di modalità che usi ma ti possono impegnare un paio d'ore e quelle due ore potevano essere tranquillamente due giorni da un certo punto di vista per la mia psiche o 20 minuti da un altro punto di vista perché si viaggia proprio nel nel tempo e la materia d'altronde si altera nel tempo si deteriora e il suono è in grado di far entrare a contatto con questo elemento o con questa dimensione del tempo che di per sé ci sembra inconoscibile perché la conosciamo solo attraverso il deterioramento delle cose o attraverso dei processi in cui lo scandiamo noi ci illudiamo di controllare pensate che l'India riflettendo sul suono arriva a dire che tutti i suoni sono prodotti dallo sfregamento o dalla percussione tra due o più oggetti un po' che ne so questo tazzina cucchiaino percussione suono ritmo oppure può essere sfregamento no? e così nascono i primi strumenti primitivi diciamo così ancestrali preistorici è chiaro che questo deve trovare una sua eccezione e l'India sostiene che l'eccezione sia rappresentata dal battito cardia in cui il meccanismo a loro sembrava potesse essere quello di un suono prodotto o l'unico suono prodotto non dallo sfregamento o dalla percussione tra due o più oggetti in realtà noi sappiamo che il sangue batte a ogni curvatura delle arterie delle vene quindi quella è la pulsazione che sentiamo ma per loro incontrarsi del muscolo cardiaco era non solo poeticamente ma era proprio anche ontologicamente era l'origine del suono non avevano magari modo di osservare che quando uno spermatozoo e un ovulo sono uniti e nasce la base della vita la prima cosa che noi vediamo con gli occhi della vita è una pulsazione che poi è proprio il battito cardia finché quello c'è c'è la vita ecco allora perché poeticamente loro hanno chiamato chakra del cuore anahatta che letteralmente vuol dire del suono non causato cioè non causato sottinteso dallo sfregamento dalla percussione tra due più oggetti il suono che si causa solo il cuore il battito cardiaco ecco ogni chakra ha un suo mantra di riferimento anche questo interessante si chiamano bija mantra bija vuol dire seme e i mantra seme sono entrati a far parte della cultura dello yoga anche qua in occidente proprio perché vengono attivati o stimolati questi centri che si snodano lungo la colonna vertebrale attraverso questi mantra questi semi sonori la cosa interessante è che per quanto la desinenza su cui poggiano cambi o possa cambiare a seconda delle correnti a volte am a volte um la consonante iniziale che cambia di chakra in chakra in tutte le scuole è sempre la medesima quindi il primo chakra coincide con la lettera l di solito si dice lam è il suo bija mantra e il secondo è vam il terzo è ram il quarto c'è proprio il cuore yam qui nella gola ham con questo suono aspirato e poi om nel terzo occhio naturalmente il silenzio è l'ultimo suono diciamo che il suono sfuma nel silenzio non l'ultimo chakra visto che il suono sorge dal silenzio e poi nel silenzio sfuma o al silenzio ritorna un po' come le nostre vite il suono è la discontinuità di un continuo e il continuo è il silenzio e quindi questo molto suggestivo viene di solito praticato io vi do questo mi sento di darvi questo consiglio di solito nei centri yoga viene praticato questo bija mantra allungando quindi mantrizzando la vocale della desinenza su cui poggia la consonante per esempio la oppure che ne so terzo chakra ma in questo modo se ci fate caso voi avete dilatato e quindi avete messo oggetto dell'attenzione del mantra la desinenza che è uguale per tutte l'unica che cambia è la consonante allora come mai dovrebbe agire una consonante così breve come fa a scatenare un effetto di attivazione sui chakra se è così breve detto in altri termini come faccio a lavorare sul mio primo chakra se il mantra è l'am e io dico la cioè sto vibrando la A ed eventualmente la M se la chiudo abbastanza lunga allora io vi consiglio di provare a estendere la consonante perché è l'unico suono che cambia ad ogni chakra che significa che è quella ad attivare il chakra quindi il caso di l'am primo chakra provate a estendere il suono L e solo quando arrivate alla fine della vostra diciamo potenza del polmonare l'am oppure la R di ram capite allora in questo modo con l'estensione del suono consonantico vado davvero a distinguere ogni chakra da un altro ed enfatizzo il suono consonantico che è molto interessante perché è quello che in teoria essendo l'unico che si distingue si attacca al chakra e operativamente ne contribuisce all'attivazione capite questo direi che è sufficiente come sguardo per il tema del suono e il tema della voce voce che vi consiglio di approfondire attraverso i miti pensate al canto di Orfeo il grande cantore che incantava il mondo e non è un caso che si dica incantare incantesimo che viene dal canto in francese il fascino si chiama charme no? lo charme e lo charme viene dal carme cioè ha a che fare col canto e quindi l'incantesimo la canzone magica il canto delle sirene questo suono ci riporta una importantissima vicenda rituale del mondo del mondo greco antico in cui le donne nei funerali in una sorta di antessiniane potremmo dire delle prefiche le donne nei funerali dell'antica grecia vibravano dei lamenti striduli che venivano chiamati go i goai erano dei suoni striduli dei gemiti dei lamenti che non servivano contrariamente invece a quello che accade con le prefiche a mettere in scena enfatizzandolo il lutto cioè a rappresentare la disperazione dei sopravvissuti durante il funerale servivano al contrario a creare un sistema di orientamento per l'anima del defunto per la psiche del morto che doveva andare in ade cioè verso gli inferi e la bussola o di nuovo i canali i solchi attraverso cui far scorrere e orientare l'anima verso ade erano dati da questi lamenti striduli quindi c'è una funzione proprio del suono che è molto interessante in termini rituali come vedete mi fermo qui sul suono perché se no ci mangiamo l'intera puntata su un'altra ecco poi a proposito del flauto ti chiederei l'ultimo cenno poiché è anche il suono è anche lo strumento di Krishna il flauto attraverso perché quello è fondamentale per la cultura sì sì assolutamente in lui abbiamo un altro grande elemento un'altra grande icona del suono ci sono forse alcuni accostamenti tra la la grazia di Krishna e alcuni elementi della grazia di Orfeo è molto importante secondo me enfatizzare quest'idea del flauto come strumento che non è è il contrario dello strumento rigido è il contrario della codificazione il motivo per cui vennero espulsi i flauti dalla polis greca e anche in India i flauti sono dei pastori sono gli strumenti dei pastori Krishna viene allevato diciamo così cresciuto se non proprio allevato però da molto giovane interagisce con le gopi con queste pastorelle guerriere e quindi diciamo che c'è questa sonorità che ci riporta un po' alla dimensione bucolica gallidiglio con il mondo della natura mentre nella polis dove vige la regola dove vige la norma è tutto è più codificato e dove c'è codificazione c'è in parte c'è rigidità il limite diciamo che oltre alla voce che è uno dei doni che l'uomo fa agli altri uomini perché ogni timbro vocale si distingue da ciascun altro sappiamo che ogni persona ha una voce diversa da un altro un altro elemento attraverso cui donarsi a chi ci sta intorno è sicuramente il gesto il gesto è anche una metapora del comportamento ha compiuto un bel gesto magari facendo un certo dono dicendo una certa cosa o comportandosi in un certo modo gesti che possono essere linguaggio corporeo possono essere compiuti consapevolmente per trasmettere una serie di significati a chi ci circonda o addirittura imprimere dei significati nella nostra psiche allora ad esempio nella cultura dello yoga alle ai mantra cioè a queste sonorità si affianca spesso il gesto le mudra mudra viene da una radice etimologica mud che significa sigillare o chiudere ed è molto interessante perché con le mani vengono compiuti esiste una ampia gamma di mudra vengono compiuti una serie di gesti che si usano come supporto alla meditazione da un lato ma dall'altro servono anche come dei trasmettitori di significati quindi come dei simboli manuali non è molto diverso dal linguaggio delle mani o gestuale che per esempio in paesi come il nostro in Italia è particolarmente accentuato e spesso possiamo sostituire le parole con dei gesti questo è un gesto che indica una certa cosa questo è un gesto che indica un'altra cosa questo è un gesto che indica un'altra cosa e oggi insomma ne aggiungiamo vari però trasmettono dei significati altri non sono così precisi nei significati quindi non sono dei segnali sono proprio dei simboli e quindi sono un po' più ampi e la gamma ampia di questa gestualità rientra sia nel rito che nella meditazione e per esempio alcuni di questi gesti guardate questa è una mudra e questa mudra ricorda un po' un fiore come vedete un po' l'idea quella del fiore del calice e diventa un modo di esprimere dei concetti dei significati nascosti dietro questa gestualità ma allo stesso tempo per esempio collocata qui all'altezza del cuore o collocata qui all'altezza della fronte diventa anche un modo di far circolare l'energia nel corpo secondo modalità diverse da altri gesti per esempio è ovvio che se io chiudessi a uovo diciamo così la punta dei due pollici facendo posare le dita di una mano sull'altra trasmetto ha significati totalmente diversi rispetto a questo e ancora di più se io chiudo pollice dentro palmo chiudo quindi chiudo il pollice nel pugno e poi quest'altro pollice lo faccio aderire a il mio medio ho creato una specie di fiamma diciamo così ho il pollice dentro qui la mia mano questa è un'altra mudra e questo è un altro tipo di gesto meditazione lo posso posizionare qui o davanti a me che trasmette imprime alla psica e alla coscienza dei significati molto diversi rispetto ai gesti di apertura come quello che abbiamo visto prima come un altro potrebbe essere questo per esempio ecco quindi anche il gesto l'elemento gestuale delle mudra ha diciamo una duplice valenza da un lato simbolica come abbiamo appena visto dall'altro oserei dire energetica cioè il fatto che l'energia scorre in un modo piuttosto che in un altro può fare la differenza è bene che cominciamo a insistere un po' di più sul tema dell'energia ne parlavo di proprio recentissimamente con Gianluca su quanto sia abusato il termine energia parola che tutti usano ma quanta poca attenzione vi sia poi su che cosa tecnicamente sia soprattutto quell'energia che scorre nei corpi come il nostro corpo umano e che l'India ha chiamato prana perché pra an an inalare il Giappone ha chiamato ki che è quella del reiki o dell'Aikido la Cina ha chiamato chi che è quella del Tai Chi la Grecia ha chiamato pneuma e così via è chiaro che siamo in presenza di qualcosa che scorre e che potrebbe essere un po' il ponte tra aspetti psicologici ed aspetti fisiologici aspetti corporei e questa energia può scorrere in modi diversi e quindi operare in maniera diversa nel corpo a seconda anche del gesto di come il corpo si dispone nei suoi significati ora se esco dal tecnicismo delle mudra in India e mi affaccio all'occidente mi basta entrare in una qualunque chiesa per vedere delle rappresentazioni di santi per esempio che compiono dei gesti gesti che anziché le mani spesso coinvolgono l'intero corpo quindi il fatto che un santo rivolga gli occhi al cielo anche questa è una mudra in un certo senso cioè quella di guardare verso l'alto anziché verso il basso anziché davanti e vedere quali effetti lo sguardo verso l'alto possa provocare o indicare il cielo o indicare con una mano il cielo e con l'altro indice il cuore viceversa oppure aprirsi la tunica qua nel centro come scoprendo il petto quindi come esponendo il cuore e magari piegare la testa di lato la venere di botticelli potrebbe essere una mudra coprirsi il seno con l'avambraccio la punta delle dita delicatamente poggiata sulla spalla la testa inclinata la mano sinistra che copre i genitali anche questo diventa un gesto e i gesti sono delle corporificazioni simboliche il sacro prende corpo il sacro si fa carne o il verbo si fa carne si fa gesto noi siamo perennemente coinvolti in una ricchissima gestualità molto sottile che enfatizza le parole che noi stiamo dicendo se riusciamo a sottrarre dall'oblio dall'anonimato queste microgestualità così come la maggior parte delle parole che diciamo spesso avambera e riusciamo a creare degli spazi delle cornici di sacralità o di significatività ecco senza magari andare troppo in alto delle cornici di significatività in cui le nostre parole o i nostri gesti possano avere un peso specifico diverso allora li riscattiamo dal grande fiume della dimenticanza quotidiana cioè dall'anonimato in cui affogano tutte le nostre parole e affogano tutti i nostri gesti nel nulla solitamente e li riscattiamo restituendoli non voglio dire all'eternità però ha una significatività che è già qualcosa è qualcosa che fa essere perché alcuni suoni sono eterni e alcuni gesti sono eterni i gesti scolpiti nella pietra finché esisterà quella pietra resteranno lì a significare a trasmettere quel significato cioè a significare quel simbolo ma anche a vibrare quella frequenza come se ogni gesto fosse una parola cioè una vibrazione e alcuni suoni durano in eterno quando medusa viene decapitata avete presente quella di serpenti in testa quando medusa viene decapitata la sua testa grida e nel mito è detto che griderà il suo grido durerà per sempre quindi medusa grida in eterno quando orfeo viene decapitato perché anche orfeo viene il grande cantore del mito greco viene decapitato la sua testa rotola nel fiume e continua a cantare e la sua testa canterà per sempre e questo è perché il suono così come il gesto accompagna la creazione e in un certo senso la plasma se il suono è il tappeto sonoro che dall'origine del cosmo fino al suo eventuale riassorbimento si manifesterà come sostegno vibrazionale dell'universo il gesto o meglio dire i gesti sono la forma registrata nella materia che fa durare nel tempo o addirittura in eterno alcuni di quei grandi concetti che Dio ha pensato tipo i pianeti le galassie o tutto ciò che vive su uno dei pianeti le stelle e così via come se i corpi celesti fossero i gesti del creatore bevo un po' d'acqua tra l'altro visto che siamo in diretta poi ne approfitto se volete scriveteci domanda e ci andate a fare e sulla parte finale veniamo da voi quindi l'ultima parte sarà dedicata alle domande del pubblico benissimo non dimentichiamo che come il suono il suono si sviluppa in maniera sperica quindi ha a che fare anche con l'aprirsi nello spazio le tre dimensioni il gesto riverbera energeticamente la vibrazione di quella postura e dei suoi significati e vi è poi un terzo elemento di cui parliamo andando verso la conclusione della nostra riflessione prima di lasciare lo spazio alle domande io mi offro io mi offro agli altri con la voce io mi offro agli altri con i gesti io mi offro agli altri con lo sguardo cioè anche i nostri occhi sono un modo di interagire di donarci a chi ci sta di fronte o anche all'invisibile naturalmente chi ci sta di fronte non per forza è una persona in carne ed ossa potrebbe essere anche il mio riflesso allo specchio o potrebbe essere l'angelo che mi guarda perché lo sto pregando tempo quindi posa il suo sguardo su di me come io come io offro il mio sguardo in dono e questo tema dello sguardo degli occhi ci riporta al terzo elemento che nella nostra serata in realtà è stato nel titolo è stato messo per primo ovvero il tema dei sigilli terminologia che in noi ricorre più frequentemente rispetto al termine che in sanscrito nella cultura rituale indiana avrebbe avuto lo stesso tipo di significato e cioè lo yantra yantra di nuovo tra sempre strumento per yan in realtà sarebbe yam significa controllo controllare quindi strumento per controllare sono dei diagrammi questi sigilli costruiti affinché lo sguardo possa seguirne le trame i più famosi che sono anche in realtà poi splendidi da ammirare sono i mandala che si usano molto nel buddismo anche quello tibetano sempre di origine indiana naturalmente tra l'altro mi raccomando per chi fosse interessato la corretta pronuncia mandala e non mandala come dicono quasi tutti lo so che è una finezza un po' da rompipalle però se uno ci tiene sappiate che non si dice mandala si dice mandala con l'accento sulla prima a e questi sono degli mandala vuol dire cerchio letteralmente sono delle figurazioni quindi delle rappresentazioni che possono avere una valenza pre-iconografica anche se non arrivano certo spessore finato artistico dell'icona ma hanno molto di significato simbolico bellissimo tra l'altro e cioè la transitorietà innanzitutto i mandala sono costruiti per poi essere dissolti non nella maggior parte dei casi facendo rendendo visibile qualcosa che accade con il suono il suono esiste quando viene produciato la musica esiste quando viene suonata cessa di esistere quando non viene suonata e questo elemento di transitorietà allena alla diciamo allena alla dissoluzione prepara il soggetto alla la scomparsa predispone alla cancellazione che poi quello che accade alla materia la materia si deteriora fino a sfumare poi certe cose resistono molto di più di altre si fossilizzano letteralmente però rimane insomma una grossa modificazione e poi la maggior parte delle cose semplicemente apparisce e nel mandala quindi nel cerchio abbiamo questa splendida rappresentazione che consente una meditazione un vero e proprio itinerario della coscienza questa volta guidato dalle immagini anziché dal suono gli antra sono dei diagrammi dei diagrammi più o meno complessi più o meno sofisticati si va dalle semplici figure geometriche come il triangolo o due triangoli uno dentro l'altro o due triangoli intrecciati uno a punta in su una punta in giù la stella cinque punte fino a dei diagrammi molto articolati e complessi anche qui possiamo dire e trovare delle caratteristiche simili a quelle che abbiamo trovato in precedenza si tratta di significati certo significati archetipali altre volte significati ermetici reconditi che bisogna saper captare o di cui un maestro ti deve poter informare magari nel corso di un'iniziazione alcune di queste cose sono davvero archetipali un triangolo a punta in su per noi è ascendente e ci trasmette il senso del salire un triangolo a punta in giù ci trasmette il senso dello scendere lo yantra o sigillo dovremmo dire di Kali cioè della dea Kali sono cinque triangoli capovolti uno dentro l'altro quasi un invito ad entrare quel triangolo a punta in giù è la cosiddetta ioni la vulva e cinque ioni cinque non è un caso per una serie di ragioni una dentro l'altra come delle porte che ti invitano a entrare in profondità i significati dei diagrammi che sono ovviamente variegati trasmettono anche qualche tema legato alla vibrazione così come il suono anche il diagramma il simbolo l'immagine ha una sua frequenza e cosa sono i colori i colori sono frequenze quindi noi possiamo prendere geometria cromature cioè i colori assemblare forma e colore e avere per gli occhi o meglio avere attraverso gli occhi per mezzo degli occhi gli stessi effetti che con l'udito e la voce posso scatenare mediante il mantra quindi come le icone sintetizzano in rappresentazioni delle preghiere così alcuni mantra rimandano a dei diagrammi alcuni suoni si attagliano perfettamente a delle figure geometriche se ci pensate l'om che voi avete presente benissimo ormai come disegnato ha un piccolo simbolo esatto che vedete è una specie di barchetta con un puntino sopra quindi voi avete questa specie di tre che sarebbe a u poi avete la parte che sboccia da lì la m e sopra avete questa barchetta col puntino questa sorta ecco quello quello non è propriamente un segno grafico che indica una pronuncia quel segno grafico indica una nasalizzazione quindi siccome è molto archetipale quel simbolo potrebbe sembrare una pancia con l'ombelico potrebbe sembrare un utero con il il bambino dentro potrebbe sembrare una barchetta che porta qualcosa e accenna anche un po' a quello che poi diventa il simbolo astrologico del sole sembrerebbe una falce di una con qualcosa del sole dentro e sì in realtà indica una nasalizzazione quindi non è un processo sonoro vero e proprio ma è quando la m di ohm sfuma nel silenzio andando verso il terzo occhio chiudendo l'epiglottide quindi poi chiudo l'epiglottide il suono viene schiacciato compresso dalla gola e prosegue verso il terzo occhio si nasalizza questa vibrazione guardate questo è un esempio di un rimando tra una grafia che ha potenzialmente una gamma di significati simbolici come quelli che infantilmente vi ho appena detto perché sono i primi mi sono venuti in mente ha l'appoggio diciamo così sebbene in questo caso sofisticato a qualcosa di sonoro ecco in molti casi il rimando è tra il suono e l'immagine cioè tra la voce e la visione perché la visione e la voce sono i due canali attraverso cui il sacro o due dei canali attraverso cui il sacro si può far percepire cosa hanno fatto i profeti cosa hanno fatto i veggenti cosa hanno fatto i saggi dell'antichità hanno visto e sentito che cosa sono i testi sacri sono il risultato di visione e auscultazione hanno visto e hanno sentito prendete gli esempi del libro della rivelazione la cosiddetta apocalisse di Giovanni e vidi e vidi poi scrive quello che vede e una voce mi chiamò e disse e la voce dell'angelo disse ora questo è un esempio ma i testi sacri ci sono in tutto il mondo antico in tutte le culture e la costante è vedere delle cose e ascoltare delle cose quindi vedete che anche dal punto di vista ricettivo la visione e la voce sono importanti ora preghi una divinità lo fai con le parole lo fai con dei gesti che ne so il segno della croce e le mani giunte in preghiera se fossi nell'isla le maniche aperte che reggono un libro quel libro allora il gesto nella preghiera è legato alle parole e poi c'è un rimando visivo che nel caso delle chiese è un bel bombardamento di simboli atti a sovrastimolare la coscienza quindi attivare dei processi sottili inconsci potremmo dire usando il linguaggio della psicoanalisi e così ovviamente entrando in un tempio in India dove le divinità hanno questi colori sgargianti queste forme particolari le molteplici braccia spesso rappresentano dei gesti diversi no? molte mutra sono modi di congiungere delle dita e quindi far circolare proprio l'energia in un modo ma anche trasmettere come dicevo significati e così i sigilli dei demoni o degli spiriti o delle intelligenze angeliche che trovate nella magia cerimoniale un po' come degli yantan sono dei congegni che servono a circuitare l'energia in un certo modo quindi attestando che quella entità ha quella frequenza lì e attivare nella mia coscienza il contatto con quella frequenza sia angelica spirito un'intelligenza un demone non importa adesso ognuno ha i suoi sigilli no? questi sigilli sono la versione grafica quindi diciamo un po' la carta d'identità in un certo senso dell'entità l'altra cosa fondamentale di ogni entità è il nome quindi quando hai il sigillo e il nome hai un po' diciamo hai il numero di telefono e la carta d'identità dell'entità che vuoi contattare perché si imprimono nella coscienza e quindi abbiamo questi tre grandissimi canali quello che passa dagli occhi con i simboli le icone con le immagini dei santi l'arte sacra ma fino agli yantra le geometrie sacre fino ai sigilli dell'entità quello che passa dalle orecchie con suono strumenti musicali voce preghiera mantra e quello che passa dal corpo il gesto il segno il simbolo reso carne quindi comunque sia la gestualità ovviamente diciamo che abbiamo tre livelli che vanno dal più sottile il più effimero che è quello sonoro poi la via di mezzo che è quello visivo e poi quello più denso diciamo così più concreto che è quello corporeo spero che abbia reso abbastanza sensato un po' questo discorso compresso sappiate che io adesso ho iniziato da poco sto tenendo un corso su questi tre elementi con una parte pratica ogni lezione facciamo una pratica è appena iniziato ma si possono recuperare le lezioni per chi fosse interessato scrivetemi via mail si può metterla nella chat vero? si scrivi scrivi me nella chat privata che così il buon mesbet la scrive e la riporta poi a tutti mentre anche qua visto che siamo alla parte finale mi scrivete domanda due punti e ne scegliamo qualcuna anche perché ti voglio proprio chiedere visto che si è parlato anche delle liturgie di come abbia anche importanza il labra cadavra la parola che crea la messa che veniva pronunciata in latino che poi viene cambiata e si viene addirittura invitato di nominarla e di pronunciarla in latino così come il potere della parola stessa che crea e che va a inuire la vibrazione che crea in principio al verbo si esatto allora avrà cadavrà sarebbe in aramaico significherebbe io creo mentre parlo quindi creo mediante la parola questo è un tema come dicevo centrale dal punto di vista filosofico perché che il verbo la parola crei le cose che cosa significa quando in Eden Dio concede all'uomo il potere di dare un nome alle cose significa concedere di possedere le cose perché avere il nome di qualcosa significa entrare in possesso di quel qualcosa quel qualcosa in un certo senso è nel momento in cui è chiamabile è difficile infatti riuscire a immaginare che esista qualcosa di cui non abbiamo ancora il nome pensateci bene se qualcosa esiste è perché il nome c'è anzi a volte addirittura può venire prima il nome di qualcosa e poi l'oggetto viene creato in base al nome pensate al bosone di Higgs che viene prima teorizzato poi nominato e solo dopo viene trovato dove il confine tra il trovare cioè lo scoprire e l'inventare o il creare quando c'è di mezzo la parola e a volte noi possiamo dire filosoficamente parlando che non vi sia differenza tra una cosa e il nome di quella cosa e che le cose sono i loro nomi come una certa filosofia medievale che fa capo a Rocellino ci ha insegnato il famoso flatus voci che è ciò in cui si risolve un oggetto l'oggetto non è nient'altro che il nome dell'oggetto è interessante perché fin da tempo in memore in India per esempio quando avevi una malattia le malattie erano demoni che ti possedevano temporaneamente e la cura consisteva nel fare un esorcismo e l'esorcismo è detto chiaramente così nel Atar Paveta nel secondo dei Veda fare un esorcismo è detto letteralmente significa fare etimologia e perché? perché la prima cosa che devi chiedere è chi sei? dimmi il tuo nome come ti chiamano se possiedi il nome del demone sei già a metà dell'opera non solo perché sei con chi ti interfacci ma perché hai l'essenza per questo in molte culture anche l'India si danno due nomi un nome che rimane segreto non viene comunicato al pubblico non è il nome con cui il mondo ti chiama e l'altro nome il modo con cui il mondo ti chiama è una sorta di nome che puoi permetterti di usare in pubblico perché non è il tuo vero nome quindi non hai dato la tua vera essenza diciamo così è molto interessante questo aspetto in molte iniziazioni si rivela un nome segreto oppure la persona è invitata a darsi un nome un proprio secondo nome che spesso rimane confinato nella cerchia iniziatica questo proprio perché nel nome c'è il cuore della cosa c'è il nucleo del fenomeno dell'oggetto scusatemi quindi il nome e la cosa è sicuramente un argomento interessantissimo l'impossibilità di distinguere tra un oggetto e il suo nome tant'è che c'è una piccola vicenda che si racconta un po' scherzosamente nella cultura sempre nella cultura hindu di questo maestro che chiede ai discepoli di definire che cosa sia una mucca e ognuno si impegna ovviamente nel cercare di trovare la definizione adeguata quella da dizionario possiamo dire così di mucca quindi animale mammifero quadrupede allora è un quadrupede è il vivoro della famiglia mammifero insomma cominciano tutti le ipotesi e il maestro continua a scuotere la testa finché non si alza il più lucido dei discepoli e dice ma mucca mucca è una parola ed è una parola formata dalle lettere il nome e la cosa quindi possiamo dire questo è un cucchiaino e diremmo una una verità parziale nel senso tutti lo chiameremmo cucchiaino in Italia perché siamo abituati a chiamare questo oggetto in questo modo ma dovremmo dire non questo è un cucchiaino tant'è che io che abito a 50 minuti dalla Francia se andassi lì e dico questo è un cucchiaino no mi direbbero no quello è direbbero il nome francese di cucchiaino invece questo è ciò che chiamiamo cucchiaino bisognerebbe distinguere l'oggetto dal nome perché perché l'oggetto si risolve nel modo in cui lo chiamiamo bellissima questa cosa vediamo un pochettino che cosa ci chiedono è bello perché smonta un po' il tema dell'oggettività nel senso abbiamo a che fare con oggetti o abbiamo a che fare innanzitutto con la nomenclatura e questo è sicuramente un cucchiaino quello che chiamiamo ok allora un nostro amico che evidentemente lavora in legno ti chiede come lo vedi il creare i mandala proprio con il legno quindi se può usare questa sua abilità anche in quest'ambito non c'è dubbio io credo che ogni forma d'arte destinata a agire sulla materia in particolar modo il legno tra l'altro è una materia viva quindi se è vero che da un certo punto di vista in particolar modo in contesti tibetani il senso del mandale è la sua scomparsa quindi la transitorietà il legno non si sottrae a questo processo solo che ha tempi più lunghi della sabbia scomposta alla fine della meditazione quindi sì tantissimo e poi in generale chi scolpisce sta rendendo più duraturo l'effimero il suono se è reso come in quella spettacolare vicenda narrata da un professore di cui non ricordo il nome riguardo il monastero di San Cugat vicino a Barcellona in Catalunia dove un monastero medievale 1200 dove il colonnato del chiostro 72 colonne in tutto mostrava dei capitelli con raffigurazioni animali però anziché la coerenza simmetrica che troviamo di solito tra i vari capitelli non si capisce come mai magari c'erano due leoni di fila poi una rana poi una scena biblica poi un elefante di nuovo un elefante poi una scena biblica questa mancata simmetria stonava con non solo tutti gli altri esempi ma anche con il senso che senso aveva questa incoerenza questa asimmetria e nessuno c'era arrivato fino agli studi di questo professore che si imbatte nella più antica codificazione musicale al mondo che appartiene all'India tanto per cambiare prima della prima codificazione occidentale l'India codificò le note usando gli animali come simboli per codificare le note avevano una scala pentatonica e vi erano proprio l'elefante la rana il leone chissà cos'altro quindi a questo qua è venuto in mente di provare a tradurre i capitelli del monastero occidentale in Catalunia di San Cugat vicino a Barcellona di provare a tradurli secondo il modello delle note conosciute in India e rappresentate in forma di animale e nelle uniche colonne in cui Capitello non era un animale quindi scene bibliche ha messo la pausa ed è venuto fuori diciamo veniva in forma musicata il più grande e famoso inno gregoriano di quel tempo Ist e Confessor quindi qualcuno ha fissato la più effimera di tutte le dimensioni quella sonora nella più dura di tutte le realtà la pietra quindi il suono è diventato pietra e i monaci che giravano nel chiostro avevano il rimando a ogni capitello avevano il rimando mnemonico della musica del canto gregoriano che potevano cantare bellissimo e molto suggestivo quindi scolpisci scolpisci duro ci chiedono anche la correlazione delle preghiere e dei mantra anche in virtù del rosario abbiamo anche spiegato in alcune puntate anche il perché probabilmente si chiama rosario dal giapa mala che si può tradurre sia con ripetizione che con rosa quindi è dovuto proprio ad una traduzione della stessa pratica che è in tutto il mondo in punti diversi proprio a testimoniare una conoscenza senza luogo e senza tempo sì assolutamente perché questo tema viene dal dal contare e dalla ripetizione qual è la prima caratteristica alla base della musica è il ritmo prima della melodia viene il ritmo tutti gli strumenti più antichi e primitivi sono percussioni allora lì dove c'è percussione c'è ripetizione ok addirittura rito e ritmo hanno la stessa etimologia il rito è ritmo e implica una certa ripetizione il termine rito e ritmo vengono da rta che è un termine che troviamo nei veda nel primo dei veda antichissimo e implicava l'ordine cosmico e la ciclicità la ripetizione quindi nella preghiera e nel mantra aveva molto senso la ripetizione e poi si lega anche al numero quindi i significati simbolici del numero prima vi citavo le 108 volte della gaiatria questi mala spesso hanno 108 grammi in India e numero sacro anche in tutto il buddismo non solo nell'induismo ci sono diverse 108 passi nel dio scio e qua esatto esatto e quindi mala che è il rosario giappa vuol dire che mormora mormorare quindi queste ripetizioni con il labiale servono proprio a creare uno stato di coscienza ma anche a strutturare come vi dicevo la coscienza su determinati ritmi se noi diamo un ritmo al pensiero oltre che un connotato al pensiero noi stiamo meglio comunque la mia teoria ve lo dico che resti tra noi tanto siamo solo su youtube la mia teoria è che 108 sia dovuto al fatto che è 2 alla seconda per 3 alla terza quindi è il quadrato del dualismo per il cubo del ternario la coppia al quadrato e poi le tre dimensioni per se stesse secondo me è una sintesi numerica della rappresentazione del creato e anche del come si crea il cosmo il 2 per il 3 ciascuno per se stesso bellissimo poi citerò anche l'ottava abbiamo parlato spesso assolutamente anche lì la legge dell'ottava c'è tutta l'intera playlist così come tra l'altro c'è tutta la playlist di Claudio Marucchi che vi invito anche ad andarlo a riprendere chissà se poi il Buon Mesbe ci fa vedere anche tutte le puntate che ho fatto con Claudio e devo dire che sono veramente di alto livello sono proprio di alto livello quindi io Claudio ti ringrazio sia per l'amicizia ma anche per tutto l'impegno che metti anche per questo canale e ne vedremo delle belle quindi all'istri e colli i simboli del tantra la cavala e gli alberi dell'Eden l'alchimia Jung la pietra filosofale i tarocchi il sex magic il simbolismo il mito angeli e demoni i testi tradizionali della magia l'identità europea sotto attacco e quindi insomma ne abbiamo già un po' vi invito veramente a andargli a riprendere perché sono tutte preziosissime a parer mio e stanno proprio bene in questo canale ci aiuta a unire anche un po' la parte più magica più esoterica e poi è bello anche sentirtelo spiegare ma io ti ringrazio tantissimo come ringrazio tutte le persone che hanno testimoniato fino ad ora questa importante questo feedback così importante sul sul modo di di lavorare sullo stile oltre che sui contenuti e mi apremura sempre cercare di semplificare nel senso senza però rinunciare alla profondità ecco semplificare senza brutalizzare quindi a volte magari il tenore è un po' alto ma è meglio abituarsi a un tenore un po' alto perché ci si allena meglio alle altezze no? e ci si abitua in fretta alle bassezze ma ci si allena meglio alle altezze quindi sono molto contento che una delle cose che stiamo riuscendo a fare Gianluca insieme è quello di tenere un discreto diciamo così livello no? in termini di altezza però senza tagliare fuori chiunque ci ascolti ecco spesso cerchiamo di essere più diciamo in grado di essere accessibili per chiunque no? questi argomenti non sono così facili chiaramente e quindi un po' l'impegno che mettiamo è anche quello di renderli più facili più masticabili ecco Monica ci dice questa sera abbiamo uno spettatore la sua amica che dall'inizio che ascolta attenta questa puntata dice deve piacere la voce di Claudio non so poi la magia dei gatti gli animali anche il come percepiscono da cosa vengono attratti e da profondire anche quello è incredibile sì sì un saluto anche al micio allora tutti i mici che ci ascoltano va bene allora fra l'altro tenete poi anche d'occhio i contenuti extra perché visto che stiamo cercando di raggiungere i 100.000 iscritti a mano a mano che aumentano gli iscritti se tutti ci aiutate anche facendo iscrivere amici passando parola metteremo dei contenuti in più quando random extra quindi tenete d'occhio spesso il canale e uno di questi sarà proprio dedicato al nuovo libro di Claudio quindi teniti pronto che faremo una bella incursione su questo libro scavando appena arrivato appena arrivato e sono contentissimo la copertina è bellissima adeguata a questo testo così scomodo che mette lo sguardo sebbene poetandolo sulle parti rinnegate della psiche umana quello che vorremmo evitare di vedere ma siamo un po' costretti a vedere o forse è meglio vedere perché a volte ignorare o reprimere è peggio che dialogare con certe parti scomode ne parleremo in un altro momento comunque ci sono poi gli articoli gli eventi dal vivo in primavera delle belle iniziative sabato saremo anche ad un ad un bel appuntamento insieme vedremo poi se porteremo sul canale anche quel che ci ci racconteremo sabato ed è una bella sono degli incontri che cominciano ad arrivare anche nella nostra città molto interessanti direi proprio di sì allora detto ciò grazie di cuore Claudio io fra l'altro l'avevo anche promesso visto che abbiamo deciso di spostare sul canale Gianluca Lamberti che porta il mio nome eccolo qua l'attualità e questi sono contenuti senza tempo grazie di cuore per le donazioni gli abbonamenti anche ai nuovi abbonati di questa puntata per l'attualità domani lo avevo promesso farò una maratona quindi maratona Lamberti versus le maratone mentane e abbiamo passato presente e futuro analizzo il conflitto israelo-palestinese sulla striscia di Gaza e ne vedremo delle belle dalle 20 e 30 fino a oltranza ospiti a sorpresa analisi editoriali saluttino tutto insieme un contributo anche da base terra un po' di nomi che ci verranno a trovare molto interessanti quindi domani prima maratona Lamberti di questa stagione passate parola lo trovate sul canale Giorgio Lamberti grazie fin da subito anche a Mesbet e a tutto lo staff che ha colto con entusiasmo questa questa avventura dell'andare a oltranza senza limite ed è sicuramente molto 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 interessante so che Claudio anche tu potresti dare un bel contributo e spesso parliamo anche di queste domande noi ci siamo lanciati e non ci siamo lanciati molto nell'attualità l'ultimo video che avevamo fatto prima di questo in effetti è stato primo approccio uno sguardo sulla contemporaneità e hai comunque la mia disponibilità qualora capitasse di poter interloquire insieme al pubblico insieme alle persone che seguono il canale e anche affrontando temi di questo genere visto che forse c'è bisogno anche di questo tipo di confronti per i momenti che stiamo vivendo e purtroppo credo i momenti che vivremo saranno e sono terribili non siamo affatto in un momento facile tranquillo della storia del mondo quindi a volte abbiamo anche bisogno di sentirci parlarci confrontarci e non solo come sfogo ma proprio come supporto reciproco punti di vista che possono contribuire ad allargare gli orizzonti della nostra mente o a pacificare magari alcuni ardori interiori non so credo che possa essere terapeutico da un lato e molto utile anche poi generale per chi per chi ci ascolta e per noi stessi che ne parliamo insomma quindi spero magari una bella puntata sul ruolo della scacchiera e della magia in guerra e in politica è interessante certo sicuramente quello è un grande tema certo lo faremo è già l'idea per il prossimo video dai alla grande ci vediamo dal vivo fra l'altro su ultimi posti praticamente sold out la data di Torino 28 c'è ancora qualche posto per il tour della Torino Magico alchemica esoterica il 29 ottobre quindi scrivete a Monica il numero è sempre quello 388 446 9845 solo sms whatsapp 18 novembre prenotate per Bologna perché la stiamo preparando anche quella molto molto interessante 9 dicembre escursione alla saga di San Michele escursione trekking spirituale 2 dicembre scegliete voi la città l'ultima conferenza dell'anno su Telegram facciamo fin da che o Gianluca Lamberti c'è il sondaggio potete scegliere si sa qualcosa Mesbet di quali città siano in vantaggio abbiamo scelto essendo dicembre quelle a massimo tre ore di strada da Torino l'unico requisito era città in cui non siamo ancora stati e ne abbiamo selezionate un po' per ora potete anche voi dire la vostra ovviamente oltre a votarla dateci magari il supporto per le sale per spargere passare parola spargere la voce e venirci a trovare aiutarci nella realizzazione anche dal punto di vista logistico ecco il buon Mesbet che accorre il nostro soccorso potete scegliere tra c'è Verona Milano Pisa Pavia Bergamo Como Verona Cremona queste sono quelle che abbiamo un po' messo sta vincendo che cosa Verona credo di sì mi è sembrato di sì se non se non volete ribaltare ecco sì per ora Verona sì 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 non volete potete ancora ovviamente ribaltare il risultato c'è poi il voto di Borghese che potrebbe cambiare tutto aiutateci una mano magari amici di Verona indicandoci le sale e magari un po' di supporto per questo duo dicembre grazie Mesbet pro sigla grazie cuore Claudio a presto ciao tutti ciao come scrisse George Orwell chi controlla il passato controlla il futuro chi controlla il presente controlla il passato facciamo finta che è il canale youtube ideato e diretto da Gianluca Lamberti sono quattro i nuovi video ogni settimana il lunedì il mercoledì il venerdì e la domenica alle 21 e 30 in diretta sostienici abbonandoti o facendo una donazione per far crescere il progetto e sostenere la libera informazione facciamo finta che è presente su ogni social a te basterà seguirci grazie a tutti grazie a tutti